giovanissima, divenne famosa interpretando la parte di Carmela nel film Due Soldi di Speranza di Renato. Castellani, Palma d'Oro al Festival di Cannes del 1952, ex aequo con Otello di Orson Welle. Negli anni seguenti, interpretò molti film popolari, i più significativi, La Domenica della Buona Gente di Anton Giulio Maiano del 1953. Tempi nostri di Alessandro Blasetti e Carosello Napoletano di Ettore Giannini. Entrambi del 1954, la sua carriera cinematografica è proseguita intensamente per tutti gli anni 50 diradandosi. All'inizio degli anni 60, è morta nel 2004 in seguito ad una crisi respiratoria.